Benvenuti al nostro Magna Tech Lab, oggi vi vogliamo presentare la nostra giacca Aviant Air. Di cosa si tratta? Si tratta di un giubbotto in pelle, stile urban ma allo stesso tempo aggressivo con le nostre protezioni esterne. Giacca traforata, in pelle, con la zona elasticizzata sotto l'avambraccio nella parte laterale per la vostra vestibilità. Le protezioni Armax, il nostro progetto di protezioni senza cuciture, già integrate nella pelle, questo per una vestibilità migliore, per un effetto della sicurezza decisamente importante. Nella parte delle spalle, la zona elasticizzata per la vostra guida e il vostro movimento, tutta la schiena traforata di questa bellissima giacca in pelle. Aprendo la zip frontale possiamo trovare all'interno la nostra taschina per i vostri prodotti. Abbiamo il nostro gilet interno e quindi removibile e le protezioni per il chest, per mettere sia il chest che poi il paraschiena nella parte posteriore. Le varianti colore di questa giacca in nero, marrone e rosso le potete trovare sul nostro sito macra.com